e ciò a tutti ragazzi questa non trova che parla e oggi sono qui con da solo e volevo vedere una cosa aspettate un attimo sì questo sarebbe il nostro cosa quindi dove sarei vediamo un attimo faccio una prova perché in pratica stavo registrando soltanto che non mi ha cioè veniva tutto nero lo schermo quindi fare una piccola prova a vedere se faccio questo dove mi teletrasporta ok mi teletrasporta appena uscito sì perché appunto non mi ha registrato io in realtà sono uscito da qua vi faccio vedere un attimo che qua l'ho completato ma affamma roda c'è proprio sono arrabbiato non mi ha non mi ha registrato cioè mi faceva il dritto nero ho fatto un bel commentario io chitti vabbè qua vedete il drago va bene perfetto andiamo un po' avanti dai vi faccio vedere almeno poi cosa avevamo fatto perché noi eravamo molto cioè eravamo più avanti in realtà sono andato di qua dai diventa nascosto che cosa vuoi Bandito Crepa Perfetto Frecce Oro Questo aveva Ok No Io volevo l'armatura del tizio nella grande Questo si Bracciai di cuore Cose Ok Guaitate che io l'avevo fatto così Scarpi Pelliccia Ok perfetto Sì esatto Qualcuno di questi aveva anche un arco da caccia Però non ricordo chi Vabbè Che mirali è il cavolo Vabbè 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 comunque ho fatto questo Vabbè Ho fatto questo e poi sono andato a prendere La Quello serve Finta la stamina Questa La pietra del ladro Accetta Perché questa Questa pietra Molto utile per La furtività E dato che Starò molto spesso così A me serve Adesso dobbiamo andare a Riverwood Giusto? Sì Riverwood Perfetto C'ho azzeccato No non mi ricordavo i tasti Andiamo 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 Adesso dovrebbero arrivare Dei gubbi Oh shit Dai vieni qua Lupo del cavolo No Mi è sparito un lupo No Ok ho fatto un bel ladro Anche questo lupo Del granato Dentro Good Va bene andiamo avanti Teoricamente avevo Un arco da caccia Infatti nel mio vero file Ho l'arco da caccia Vabbè ora che Ve l'ho fatto vedere Cosa ho fatto Direi che carico Il mio vero file Che è meglio Questo è No Questo Sì Perfetto Entro Vedete Tanto sono Nel stesso punto Tanto ho l'arco da caccia Vabbè Mi hai fatto prendere un colpo Ok ho un'ottima mira Ecco Perché quello scappa sempre Ok Dovrei aver sparato frecce a caso Quindi Cerro di montagna Ok Niente ho perso le frecce Perfetto Un po' di merda Perfetto Andiamo avanti Sì Ok Ero vestito buone Fammi vedere Che fisico Perfetto Sono arrivato a Riverwood Ok Perfetto Scusate Devo vedere una cosa Vuole salvare un attimo Scusate un attimo Perfetto Mia madre che mi chiedeva Cosa si mangiava stasera No L'aveva andato a finire Il tizio Cosa si mangiava stasera Cosa si mangiava stasera Scusate 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 Va bene C'è la stessa missione Che Però Dopo aver stato su questo masso E poi albira del fiume Faremo nel prossimo episodio Quindi ciao a tutti da Sauron39